Ogni tre secondi un bambino muore a causa della fame, della mancanza di acqua e di cure mediche. Shalom, io lo conosco. Sono stato in Africa con i suoi volontari. Dal 1974 ha fatto scuole, case famiglia, orfanotrofi, panifici e ostelli da far gestire alle popolazioni locali. Sostieni il Movimento Shalom con il 5x1000. Non ti costa nulla e darai una mano a milioni di uomini, donne e bambini. Sulla tua dichiarazione di erediti indica il codice fiscale in sovraimpressione. Movimento Shalom. Aiuta chi aiuta. Sulla tua dichiarazione di erediti indica.